Seconda tappa per il diciottesimo trittico laziale di mountain bike, siamo a Spinasceto di Roma per l'organizzazione curata dall'emporio del ciclo dei fratelli Danilo e Roberto Loreti. Eccolo qua, proprio Roberto Loreti alle prese con la sistemazione delle bici che immancabilmente a un quarto d'ora dal via presentano sempre immancabili problemi. L'organizzazione abbiamo detto è dell'emporio del ciclo, il supporto tecnico del centro sportivo italiano. Questo è il percorso, sei chilometri e mezzo con un terreno piuttosto fangoso, difficile proprio in un momento particolare come la gara di oggi dove le abbondanti piogge dei giorni scorsi creano davvero difficoltà. Riserva naturale di decima malafede, guardate quanto sono belli questi posti a due minuti da Roma e siamo a Spinasceto. Vedete che il fango ce n'è tanto, questo è il fango della sgambata di chi cerca di scaldarsi poco prima della partenza e come vengono ridotte le bici. Roberto Loreti parla con i 300 concorrenti alla partenza spiegando quali sono i problemi e intanto la microcamera piazzata sul nostro amico abruzzese che ci darà delle immagini dal vivo di questa competizione. Siamo pronti sulla linea del via per dare inizio a questa gara. Dicevamo il fango ce ne sarà davvero tanto, un'infinità e probabilmente dei giri previsti dal regolamento bisognerà tagliare qualche cosa. Qui intanto si parte con il percorso e il terreno abbastanza asciutto, sono in 300 come abbiamo detto i concorrenti che si apprestano al via, ci sono i migliori bikers che arrivano dall'Umbria, arrivano dal Lazio, arrivano dall'Abruzzo e arrivano anche dalla Toscana e dal Molise. Tutti insieme per chiudere questa seconda tappa del trittico laziale, tre tappe che stanno dando davvero buoni risultati, buoni frutti e che rappresenta una sorta di campionato invernale della mountain bike per quanto riguarda la regione Lazio. Si sale, si va su in salita per iniziare il percorso, di fango in questo momento non ce n'è tanto, ma quello che preoccupa più sono due passaggi in salita e in discesa che dovrebbero dare sicuramente notevoli difficoltà. Intanto Angelo Mistelli della Ciociaria Bike allunga il passo, dietro di lui avete visto che c'è Tarallo, Vladimiro Tarallo del team B-Med e poi il nostro Peppe Zamparini della Cicli Montanini che è lì dietro all'inseguimento. Si scende e si sale, tutti quanti alla ricerca di una prestazione, tutti quanti a cercare un posto di privilegio, ma si sa benissimo che il primo giro verrà deciso tutto nella salita, la spalletta delle Alpi, la salita più dura che spesso e volentieri vi abbiamo raccontato attraverso Bici Magazine per farvi capire quanto possa essere dura e difficile. L'emporio del ciclo, come abbiamo detto, dei fratelli Danilo e Roberto Loreti, dal 1990 i meccanici della nazionale MTB, mountain bike, strada, bambino, spin bike, assistenza tecnica, abbigliamento, accessori e tutto ovviamente per chi ama la mountain bike e la strada. Tra l'altro dall'emporio del ciclo viene una bella squadra che oggi partecipa, si punta molto sui ragazzini, sui piccoli che possono dare davvero qualche cosa in più al mondo della mountain bike e della strada. Primo tratto del percorso, avete visto, non ce n'è molto di fango, ma vedete come è il terreno, lunghe pozzanghe, rilasciate da questi tre giorni di diluvio con un terreno piuttosto argilloso che non permette di far drenare il fango in profondità, resta tutta acqua in superficie, fino a dove c'è l'erba si può andare avanti. Tra l'altro, come dicevamo, siamo all'interno di una riserva naturale dove è particolarmente difficile poter toccare qualunque cosa. Il percorso è quello degli anni passati, non si tocca, non si possono creare nuovi sentieri, tutto è controllato, è una riserva naturale ed è così dice il mondo che deve essere. A volte ci chiediamo però quanto questa impossibilità e questa burocrazia non permetta spesso e volentieri di poter godere appieno di queste riserve naturali. Però intanto c'è questa invasione pacifica e corretta dei bikers che si sono comportati in maniera impeccabile senza lasciare nulla in giro, facendo attenzione e ricordando di essere all'interno di una riserva naturale, di un parco naturale che è proprio a due passi da Roma. Fa la metà del primo giro, il gruppo è perfettamente compatto, come abbiamo detto sono 300 i concorrenti, si corre per l'organizzazione dell'emporio del ciclo sotto la bandiera del centro sportivo italiano che caratterizza questo trittico laziale, questi tre appuntamenti con la mountain bike che come vi abbiamo detto rappresentano in un certo senso una sorta di campionato invernale della mountain bike. Si inizia prestissimo, già dalla metà di febbraio per arrivare alla metà di marzo e secondo noi è l'appuntamento più importante, più atteso dai bikers che si scrollano di dosso l'inverno e iniziano a respirare quella che sarà la vera e propria mountain bike. L'abbigliamento lo vedete, è tipicamente invernale, le maniche sono lunghe, qualcuno lascia le maniche corte sfidando il freddo. Ma noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Da un unico allevamento, un solo latte di ottima qualità. Una sola carne, genuina e garantita. Dalle sole colline di Trevi, un unico olio di oliva dal gusto inimitabile. Fattoria Morella, dal 1960 abbiamo una sola terra per darvi infiniti sapori. Ed eccoci allora alle prese con il fango. Ce n'è tanto, guardate sotto le suole quanto se n'è andato ad ammucchiare. E poi il nostro abruzzese che ci dà le immagini dalla sua microcamera. È davvero difficile. Questa è la salita della spalletta delle Alpi, dove c'è il traguardo. Si viene su obbligatoriamente a piedi, si risale per poi fare un breve tratto tra i box in pianura. E poi ci si ributta in questa discesa. Angelo Mirtelli, della Ciociaria Bike, davanti a tutti in questo tratto in discesa. percorso trialistico in questo punto, con dei bei passaggi tra le pietre. Bisogna scendere. Angelo ci prova a tenere il passo. È uno dei pochi che va su senza scendere dalla mountain bike. Primo posto dunque per Angelo Mirtelli, inquadrato in questo istante. E poi si sgrulla la bici in tutti i modi per cercare di buttare via il fango, per cercare di dare una liberata, liberata quella morsa di fango che attanaglia. Peppe Zamparini, seconda posizione in questo momento, anche lui in discesa. Vedete come la ruota posteriore resti bloccata quando si tocca minimamente il freno per scivolare sul fango, il passaggio tra le rocce. E poi si fa un tratto lungo in contropendenza prima di ritornare a quella zona dove è stata data la partenza. Dietro poi abbiamo anche gli altri con Zefferino Grassi che cerca di andare all'attacco. C'è appena una manciata di secondi tra il numero 399 Zefferino Grassi della Scott NV Sport, categoria Veteran, e il numero 1 Peppe Zamparini, categoria Gentleman con la Cicli Montanini. La quarta posizione è del numero 89 Vladimiro Tarallo del team Bmed di Civitavecchia e poi in quinta posizione Paolo Tempestini dell'MTB Santa Marinella. In sesta è il numero 76 Emiliano Sebastianelli della Cicli Montanini davanti al numero 100 Alessio Porcari del NV Sport Cicli Conte e poi con il numero 144 Domenico Fonzo della PS Cicli in team davanti a Lorenzo Borgi numero 22 del team Bmed. Eccolo qua Paolo Tempestini che scende su questa discesa molto tecnica e molto particolare e iniziano i dolori e anche qui i piccoli della scuola dell'Emporio del Ciclo tribolano e non poco. Avete visto passare con il numero 110 Jesserson Benato del team Bmed nelle prime posizioni poi c'è anche Paolino Appodia che sta inseguendo il gruppo di testa siamo nelle prime dieci posizioni i migliori di questa seconda tappa del trittico laziale. Ed ecco anche Lorenzo Borgi con i mancabili guanti bianchi per questo passaggio con il numero 22 guardate il fango come costringe a tenere la bici in equilibrio e si inizia a salire a piedi perché è difficile mandare su la bicicletta le ruote bloccate guardate quanto fango c'è si cerca di spingere in tutti i modi la bici ma se non si pulisce dal fango è difficile che si possa avere una risposta del pneumatico. Con il numero 144 Domenico Ponzo l'abbiamo detto della PS Cicling e poi ancora un passaggio ruote bloccate guardate quanto è difficile però quando si va in discesa ci si libera un po' del fango guardate come passa il fango e gli schizzi di fango attraverso la micro telecamera. Con il numero 4 Miralli anche lui a piedi tutta la salita bisogna farla immancabilmente a piedi. Con il numero 92 Giulio De Prosperis della Cicli De Simone anche lui nelle prime posizioni è decimo in questo momento e come vedete è sulla salita lì della spalletta delle Alpi tutti immancabilmente a piedi. È difficile fare il commento di una gara caratterizzata da un fango come questo però d'altra parte non si poteva cambiare nulla di questo percorso i tre giorni di pioggia che ci sono stati guardate come hanno reso viscito il terreno come anche sul piano si fatica per andare avanti e soprattutto la discesa tra queste rocce e questi passaggi diventa davvero una impresa guidare. Percorsi trialistici bisogna scendere prendere la bici passare tra le rocce come avete visto per tentare una situazione migliore nel passaggio. Certo che questo è l'unico pezzo dove si può veramente pedalare poi quando si trovano i tratti in salita lo vedrete dalle immagini le ruote si riempono di fango di argilla e diventa quasi impossibile. Nuovo passaggio per Peppe Zamparini lo vediamo nel passaggio del piano e poi via via il resto del gruppo qualcuno sceglie di andare direttamente con la bici a spalla per farla toccare il meno possibile sul fango e sfruttare i posti dove è più guidabile ma vedete questo è un tratto che sembra niente ma in completa contropendenza bisogna guidare in maniera impeccabile come si sbaglia un attimo si rischia di finire in terra. Tutti a piedi sulla salita di buona lena con grande coraggio bici di spalla che pesa sei volte di più per il fango attaccato passaggio anche per Paolo Tempestini al rifornimento si cerca un sorso d'acqua e poi via che si riparte ancora una volta per il giro giri che sono stati tagliati a tre proprio perché è difficile andare pubblicità a presto a presto a presto a presto